Davide Caparini, la consulta ha deciso che il referendum proposto della Lega Nord per abolire la legge Fornero è incostituzionale, lei che cosa ne pensa? Beh, che ha amato Premier di un governo di sinistra o Mattarella, Vice Premier di un governo di sinistra, in tambi i membri della Corte Costituzionale, purtroppo non avrebbero potuto che decidere in questo modo, ovvero di non far votare ai cittadini una questione così importante e determinante per il loro futuro come le pensioni, come il regime che poi di per sé definisce quando si può entrare e quando si può uscire dal mondo del lavoro. È stato privato a tutti noi la possibilità di incidere, la possibilità di contare, ancora una volta è stata chiusa la porta in faccia a tutti i cittadini italiani.